Grazie a tutti. 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 . Grazie a tutti. . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. . Grazie a tutti. 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 . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. . . Grazie a tutti. . Grazie a tutti. 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 . 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 .... . Grazie. 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 a 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 lock a lock but a 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 che ci sono il d'un poccato così il sottolo il peso il sottolo si cos ci il è c'è il il c'è il il c'è si grazie a tutti ora sono iniziative a fare così ora sono iniziative a fare così ora è un po' più soltere qui c'è 1000 avanti qui c'è e qui c'è e questo è tutto e cosa c'è 4 e 5 e e e e e e che e e e Grazie. 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 il simbol e ci chai chiamo il simbol e come a find mole fraction il nostro corso il nostro corso grazie a tutti a o il 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 l'accom il 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 ben allora staremos 80 x 20 più 80 20 x 100 20 x 100 80 x 100 1 minuto 0.2 se spazi 2 x 10 è ugual 2 x 10 è ugual 8 x 10 è ugual svece 2 10 10 10 è ugual 1 What does che se che se ci sono abbiamo razzera approcci in un cante ne vero che hanno indichato? erano due facciolini da due facciolini nel ciò che aveva vanno alexa ad ageriamo se c'è un cante meri e tre facciolini ciò che aveva non sono la facciolini fino alexa facciolini 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 Perché direcctly il nostro analì già è Ci dassi che ti avance Attre aення la capacità delle cose che racconti Solvent ripasse e орibli Solvent ripasse e Solvent è Se come come an A E Se come come a n B Se come come a mole fraction di solute ripasse O' screens riprese Che voli Quas come la volta O'ne N B R Jesse O'ne Pulito O'ne qui se ma total mole che ha bacchia n a plus n b tu hai appa che ha nicale a mole fraction of b nicale gai usi tariqe se agar aapko mole fraction of a nicale nicale a very simple formula n a by calic de nga bacchia bacchia n a plus n b aya prioniccio sammaj mai clear ho bacchia to fraction jambi loco nicale 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 total mole acchia isko aap loge yun bhi dekhenge likha hua n b y n total yeh bhi sweatxi akia bhi likha cecate vaai e likhod me likha a phenomena ko geasto e Mile wadeo ngatara saikta eini wadeo qaru k 행복hi nd b by n total plus ne by n total to ke ,an but tes hani ti no pri kayo n a plus n b upon bruni ca hi n a plus and by ko gata d nonu cam raazeno yaani yaha be the barre true nihili il ,cole faction auch of a plus mole fraction of b dono fraction ,ハá gara jona gura è uguale to kittà c'è one to go bache gabbè giù d'unno n'i calentino e n'e c'è chiacchereghe sir fake n'i calma e or aggla wale co basca ha kardina one say minus cardina for example agar exe zero point six a hai to ex b kittà ho va very good agarie zero point azzada d'ecco practice ho già idè a dè s'abbiaan dè nga bala bai zero point two qui ci sono? 0.5 0.5 0.4 0.35 è giusti giusti 0.45 0.55 è 0.25 è 0.55 0.55 è 0.55 è 0.55 è è è è è 0.55 l'ISS è è l'I 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 lui l'I 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 no, 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 no. ah 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 a no abbiamo bisogno di un'analogio quando faccio il Thermodinamics faccio in questo modo abbiamo bisogno di un'analogio faccio faccio in questo modo faccio in questo modo in questo modo in questo modo grazie a tutti 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 il nostro corpore, il nostro corpore. che e quanto riguarda? 40 gradi tutti i massi a te lo conosci ora ti faccio mol fraccio come vi faccio mol fraccio perché mol fraccio di glucosa che la formula è quella che che la glucosa supraccio divide che la glucosa suurea suurea su 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 quindi tutti i massi su 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 tra queste exagazioni, ? QuAquiamo? Queste suifiche diarto che altro mondo mausole mausole e i sve apporto per il quattro mausole si non si non non si non si non si 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 Grazie. 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 molle fraccia n'è la sui come lo l'opera rikin ghi Khi Kho question ko agar yung khoma diya jai a compagni che a gara a pas per cent W by W bata dè o o questo è molto un 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 e poi si ci sono molini non ci sono un po' di non ci sono molto importanti ma piaccio si chiama si chiama non 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 è così non è ancora un po' di fraccio cosa è come? si è come? si è come? 80 80 80 che è come? lo comune come noi negli qui negli arri noi ma kittà non ora fa no . No N il Si M L N e sale N A presto Grazie a tutti. il modo di è di mettere una cosa che ha detto che questo è una cosa che si faccio è uguale a 1000 gram di acqua 5 mols of Naos is dissolved in 1 kg di acqua 1 kg è uguale 1000 gram di acqua 3 mols of Solute 3 mols of Solute quindi se 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 si se 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 molal aqueous solution a molal aqueous solution qu'è l'evolta? a molal aqueous solution a mols of solute is dissolved in 1 kg 1 kg 1 kg a molal aqueous solution 1 kg 1 g second 1 kg 1 kg term si chiede molarity qui ha anche qui term si chiede qui term si chiede si prima si chiede decimolar qui si si chiede decimolar qui si chiede centimolar qui si chiede semi-molar e o qualche millimolar si chiede decimolar qui ha what does it mean it means it is small m by 10 small m by 10 molality given 0.1 molal 0.1 mol per kg centimolar centimolar m by 100 this means this means 0.01 semi-molar m by 2 this means this means 0.5 m in ki meaning zara ek bar zara khol ke pata do 0.1 molal kia meaning kia ho 0.1 mols of solute is dissolved in solvent yeah 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.